La carità più grande che ci viene chiesta è la preghiera per i morti e l'invito del Vescovo Diocesano nella giornata di preghiera per i defunti. La guerra è la distruzione di noi stessi, così il Papa al cimitero americano di Nettuno, poi la preghiera silenziosa al memoriale delle fosse ardiatine. La santità è l'unico traguardo che conta nella vita di ciascuno, così il Vescovo Diocesano nella solennità di ogni santi. Chi è con Gesù, ha detto il Papa all'Angelus, è beato e felice. Concluso l'ampliamento del cimitero di Carasco, l'opera costava 70 mila euro, ma c'è stato un ribasso d'asta di 20 mila. Potranno così essere realizzati altri lavori di ristrutturazione. Serie di Amara per le squadre del Tiguglio, la Lavagnese ha perso in casa 2-1 contro il Seravezza, il Sessi Levante è stato sconfitto in trasferta 1-0 contro il Real Forte Querceta. Buonasera a tutti i gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. La Chiesa ha celebrato oggi la commemorazione dei defunti. In cattedrale il Vescovo ha invitato ad accompagnare i morti con la preghiera che rasserena e apre lo sguardo. Nel pomeriggio invece la Santa Messa al cimitero urbano di Chiavari. La sintesi della giornata nel servizio che abbiamo preparato. La carità più grande che ci viene chiesta è la preghiera. Si sofferma su questo punto il Vescovo Diocesano nel giorno della commemorazione dei defunti. Una giornata per fare memoria dei propri morti, anche se non è, dice Monsignor Tanasini, l'unico modo per ricordarli. L'invito è a pregare per loro, soprattutto per chi non ha mai pensato alla vita eterna o per chi si trova in purgatorio, cioè quello stato di chi non ha ancora raggiunto la condizione di poter immergersi nell'amore di Dio ma che a quello aspira. Noi, spiega il Vescovo, possiamo aiutare questi fratelli con il nostro amore che diventa appunto preghiera e suffragio. Non dimentichiamo questa preghiera, non dimentichiamola ora che siamo qui per questa carità, per pregare per i nostri defunti che hanno bisogno di essere sostenuti e aiutati nel loro amore per poter entrare nella gloria del Padre. La celebrazione dell'Eucaristia è il dono più grande che possiamo fare per loro. L'offerta dell'Eucaristia, del sacrificio eucaristico è offerta di quell'amore che salva. Questo ci chiedono, questo vogliamo donare. Nel primo pomeriggio il canonico Monsignor Francesco Isetti ha presieduto la messa al cimitero di Chiavari. La resurrezione è la grande prospettiva di questa giornata, ha detto nell'Omelia. La memoria dei nostri morti, ha spiegato, invita a non immaginarci chiusi per sempre soltanto nella cavità buia del tempo e dello spazio. Piuttosto, ha detto il sacerdote, siamo come bimbi nel ventre della madre, destinati proprio con la morte ad uscire in quell'orizzonte di bellezza indicibile dove passeggeremo con Dio nella sua luce. Una messa per tutti i caduti delle guerre. Il Papa ha voluto celebrarla nel giorno in cui la Chiesa commemora i fedeli defunti in uno dei luoghi sacri legati alla Seconda Guerra Mondiale, cioè il cimitero americano di Nettuno in provincia di Roma, dopo la celebrazione e la preghiera al memoriale delle fosse ardeatine. Vediamo. La messa al cimitero americano di Nettuno è l'occasione per il Papa per denunciare la guerra quale inutile strage. Tante volte diciamo signore fermati, basta guerra e questo, ha proseguito Francesco, dobbiamo dirlo in modo speciale oggi che il mondo un'altra volta è in guerra. Signore non più, con la guerra si perde tutto, è la distruzione di se stessi. L'umanità di oggi ha ammonito il Papa, non ha imparato la lezione e sembra che non voglia impararla. Quando tante volte nella storia gli uomini pensano di fare una guerra, sono convinti di portare un mondo nuovo, sono convinti di fare una primavera e finisce un inverno brutto, crudele, il regno del terrore, della morte. Oggi preghiamo per tutti i difunti, tutti, ma in modo speciale per questi giovani. In un momento dove tanti muoiono nelle battaglie di ogni giorno, questa guerra a pezzetti. Preghiamo anche per i morti dolci, i morti di guerra, anche bambini innocenti. Questo è il frutto della guerra, la morte. Prima della messa Francesco si è fermato tra le tombe, tra le quali quella di un ignoto, un italo-americano e un ebreo, per un momento di preghiera. Dopo la celebrazione poi, il Papa ha raggiunto il memoriale delle fosse erdeatine, luogo della strage nazista, del 24 marzo 1944. Il Pontefice ha sostato in silenzio davanti alla cancellata, dove vennero uccise per rappresaglia 355 persone. Infine, il Papa è entrato nelle grotte dove ci sono le lapidi dei difunti identificati e ha deposto mazzi di fiori su alcune tombe. E ieri invece c'è stata la giornata di festa e anche di preghiera per i Santi. Santi, ha spiegato il Pontefice all'Angelus, non sono modellini perfetti ma persone attraversate da Dio che hanno accolto la luce del Signore nel loro cuore e l'hanno trasmessa in tutto il mondo. La felicità, infatti, ha aggiunto il Santo Padre, non sta nell'avere qualcosa, nel diventare qualcuno, ma è stare col Signore e vivere per amore. In questa occasione Francesco ha espresso dolore per gli attacchi terroristici in Somalia, in Afghanistan e a New York. Chiediamo al Signore, ha detto, che converta i cuori dei terroristi e liberi il mondo dall'odio e dalla folia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare la morte. E il Vescovo di Ucesano, Monsignor Alberto Tanasini, ha presieduto l'Eucaristia nel giorno di tutti i Santi, dalla cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto. I Santi, ha richiamato, citando le parole di Gesù, sono davvero ciò per cui esistiamo. Una vita davvero realizzata se tende a questo traguardo che è l'unico successo che conta. E la gioia, il primo sentimento che suscita la festa di tutti i Santi, lo ha sottolineato il Vescovo nell'omelia pronunciata in cattedrale a Chiavari nel giorno in cui si faceva memoria di chi già vive nella gloria del Signore. La gioia di un'amicizia speciale, ha spiegato Monsignor Alberto Tanasini, quella che ci lega nella comunione dei Santi e ci fa condividere beni più alti. Santi sono tutti coloro che portano il sigillo di Dio, quindi tutti battezzati. Nel libro dell'Apocalisse vengono descritti come una moltitudine immensa. In questa moltitudine, ha proseguito il Vescovo, vediamo volti di uomini e donne che ci sono familiari, che noi stessi abbiamo conosciuto, persone eroiche nella fede fiduciosa e nella carità operosa. La santità appartiene a Dio e ci viene donata. Al tempo stesso, però, i Santi vengono descritti nelle scritture come dei vincitori. Hanno affrontato la tribolazione e hanno vinto, raggiungendo l'unico successo che conta. Tutti gli altri traguardi sono parziali o fallimentari, ha proseguito Monsignor Tanasini, che ha poi concluso con una domanda. Guardare a questa moltitudine immensa di vincitori non suscita in noi il desiderio di combattere questa battaglia di bene? Di uscire dalla nostra mediocrità, dalla rassegnazione del vivere a metà, l'amore per Dio e per i fratelli. Perché la santità è vivere all'amore, ricevuto e donato. Noi siamo figli di Dio, ci è stato detto. Vivere da figli è la strada della santità. Si è concluso a Carasco l'ampliamento del cimitero urbano. Realizzati 60 nuovi loculi e 39 ossari, il cantiere riaprirà dopo questo periodo di festa per l'avvio di altri interventi. Tra questi, lavori della cappella cimiteriale, restyling esterno dei loculi esistenti, la regimazione delle acque e anche la nuova pavimentazione. Vediamo. Che cosa hanno riguardato i lavori che si sono conclusi al cimitero di Carasco? Allora, i lavori hanno riguardato l'ampliamento del cimitero, in quanto ormai vi erano più pochi posti disponibili e pertanto sono stati realizzati 60 loculi e 39 ossari. L'intervento complessivo, a base di gara, era di circa 70 mila euro e quindi hanno permesso di realizzare queste due strutture. In parte i loculi sono stati venduti e questo ha anche permesso quindi il cofinanziamento dell'intervento. Ecco, in questo periodo che situazione c'era il cimitero? Diciamo che ormai gli spazi erano quasi totalmente esauriti e pertanto ci sono eseguite anche delle tumulazioni nelle parti rimanenti anche, diciamo, in terra. E quindi ora con questo nuovo intervento si riuscirà quindi a ripristinare e avere una capacità per un po' di anni. Per il futuro che altri progetti avete? Allora, intanto con il ribasso d'asta sui 20 mila euro andremo avanti con alcuni lavori di manutenzione ordinaria sempre su una parte del cimitero che riguardano il ripristino delle capotazioni delle acque bianche e della cappella cimiteriale, quindi abbiamo rifatto diciamo le gronde delle acque bianche e poi andremo a intervenire anche sulla pavimentazione e sulla ricimentazione delle acque bianche di parte del cimitero. Eseguiremo anche la presa dell'acqua, la fontana che ora attualmente è esterna, la metteremo internamente in modo tale che è di più facile fruizione per chi verrà a fare visita e pubblicare. E infine andremo a risistemare l'intonocatura e quindi il rifacimento dell'intonaco dei loculi che sono stati realizzati intorno agli anni 80-90. Passiamo ora alla cronaca. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio all'interno di un appartamento in località Trigoso lungo la via Aurelia. Il denso fumo nero ha subito spaventato i residenti della zona. Tuttavia, raccontano i pompieri del distaccamento di Chiavari, non è accaduto nulla di grave. Le fiamme sono divampate da una cucina e il fumo è stato prodotto dalla plastica bruciata. A momento, spiegano, le cause del rogo restano ignote e sono in corso gli accertamenti. L'interno della stanza è completamente annerito ma la casa non è rimasta danneggiata. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati. Solo tanto spavento, dunque, un'operazione che è durata dalle 10 alle 12 di questa mattina e chi ha visto impegnati, dicevamo, i vigili del fuoco di Chiavari insieme a quelli di Rapallo. Necessaria anche la presenza dell'autoscale e dell'autobot arrivate dal comando. Sempre cronaca, i carabinieri di Rapallo hanno dato esecuzione alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 27enne straniero. L'uomo sarebbe stato protagonista di episodi di maltrottamento e lesione ai danni della convivente, una 22enne anch'essa straniera. Si riunisce questa sera alle ore 21 il Consiglio Comunale di Sesti Levante. Durante l'Assemblea si voterà un aggiornamento al PUC per la realizzazione del depuratore di Ramaglia. Ad assistere ci sarà anche il Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossalupara, contrario alla costruzione dell'impianto e autore di un ricorso tuttora pendente al TAR. In un comunicato il gruppo ribadisce l'importanza di avere un moderno depuratore, ma chiede che venga localizzato in una zona vicina al mare, lontano dalle case, interrato e preceduto da uno studio di fattibilità che sia il risultato di un confronto con la gente. E ora spazio all'economia. Oggi parliamo del disegno di legge sul bilancio 2018. Il documento prevede alcune modifiche nei bonus relativi alle ristrutturazioni edilizie. Alcuni punti potranno subire delle variazioni prima dell'approvazione definitiva della manovra da parte del Parlamento. Vediamo la scheda nello sportello economia. Sigla. Al primo punto viene introdotto uno sconto del 36% da dividere in 10 quote annuali per interventi di sistemazione a verde di balconi, terrazzi, giardini e coperture. Il tetto massimo di spesa è di 5.000 euro per ogni immobile ad uso abitativo. Per interventi condominali il limite va moltiplicato per il numero di appartamenti. Lo sconto riguarda la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, la sistemazione a verte di aree private scoperte, di edifici esistenti, pozzi, impianti di irrigazione e recinzioni. Sono detraibili anche le manutenzioni e le attività di progettazione. Secondo, scende dal 65 al 50% lo sconto su alcuni interventi di risparmio energetico, come l'acquisto di caldaia a condensazione, impianti di biomassa, schermature solari, infissi con determinate caratteristiche di legge. Detrazione al 65% invece anche nel 2018 per alcuni lavori di risparmio energetico che rispetteranno i parametri previsti da un decreto non ancora emanato. Il terzo punto prevede detrazioni riservate ai condomini fino al 70% della spesa relativa agli interventi sull'involucro dell'edificio, che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda. La detrazione sale al 75% per i lavori che migliorano la prestazione invernale o estiva. Quarto, il sisma bonus. Sono premiati fino al 75% i lavori nei condomini che riducono il rischio sismico di una classe in meno. La detrazione sale all'85% per lavori che riducono il rischio sismico di due classi in meno. Si potrà usufruire della detrazione al 50% se la riduzione del rischio è inferiore. Infine, viene confermata per il 2018 l'agevolazione che prevede una detrazione pari al 50% per le spese sostenute fino a 10.000 euro per l'acquisto di immobili ed elettrodomestici. Ottenere risposte più rapide dalla pubblica amministrazione a fronte di segnalazioni sul malfunzionamento di servizi o delle infrastrutture della città di Chiavari. E' questo l'obiettivo del nuovo software che l'amministrazione comunale ha deciso di introdurre a servizio della Giunta. Con una nota diffusa oggi si precisa che il nuovo sistema funzionerà tramite un sistema di messaggistica via WhatsApp attraverso il quale i cittadini potranno interagire direttamente col Comune. Per questa ragione è stato acquistato un PC portatile del costo di 1.823 euro più IVA che rimarrà nel patrimonio del Comune a disposizione della Giunta. Inoltre sarà acquistato anche un sistema informatico del costo di 5.124 euro più IVA per tracciare l'operato dei dirigenti. Con la nota diffusa oggi l'amministrazione guidata da Marco Di Capua risponde anche alle polemiche della minoranza relativa ai costi della portavoce del Sindaco. Secondo quanto emerge dal comunicato il Comune assumendo una collaboratrice esterna avrebbe risparmiato 1.755 euro al mese rispetto al primo ufficio stampa incaricato dall'amministrazione Levaggi e 965 euro al mese rispetto al secondo. Santa Margherita Ligure guarda già al Natale 2017. Nell'ultimo incontro tra Giunta e Ascom si è parlato dell'organizzazione della Santa Claus Village che anche quest'anno animerà i giardini a mare e dei parcheggi cittadini che nelle vacanze natalizie potrebbero anche addirittura essere gratuiti. Durante la riunione inoltre sono stati affrontati i temi del commercio abusivo e dell'accatonaggio per i quali negli ultimi mesi è stato avviato un lavoro anche attraverso la consulta del volontariato. Il Consiglio Direttivo del Consorzio Portofino Coste ha nominato ad Alberto Gigli nuovo presidente. Prende il posto del compianto Franco Orio di cui è stato vicepresidente per 30 anni. Gigli ha ribadito l'intenzione di continuare a impegnarsi per lo sviluppo dell'attività consortile in funzione di una sempre maggiore comprensorialità del turismo locale. È stato inoltre nominato vicepresidente Claudio Ceruti. Continua a Genova il Festival della Scienza. Decine e decine di eventi, laboratori, gli incontri che quest'anno sono legati al filo conduttore-contatti. Tra i tipi di contatto, uno in particolare ha suscitato molta curiosità, ovvero quello tra pane e salame per molti, sinonimo di semplicità, ma che è stato presentato anche in un contesto scientifico. Pane e salame è stato proprio il titolo dell'incontro che si è svolto questo pomeriggio. Relatore Giovanni Ballarini, professore merito dell'Università degli Studi di Parma e presidente dell'Accademia Italiana della Cucina, che ha parlato dei salumi dal punto di vista antropologico. Noi lo abbiamo intervistato. La parola guida del Festival della Scienza di Pestano è contatti. L'alimentazione è piena di contatti più diversi per costruire nuove armonie. vegetali e carni sono due elementi di contatto molto particolari che noi abbiamo definito in tante maniere. Una di queste è anche il pane e il salame. Come si declina questo contatto? Questo contatto si declina partendo da una... da tanti antichissimi. L'uomo era con un'alimentazione sia di frutta sia di carni. Questa doppia alimentazione fruggivora e carnivora che è stata definita in tutto quanto il resto della sua storia. Poi è venuta la cultura. La cultura ha trasformato i vegetali in pane, pasta e tante altre preparazioni. Non solo, ma ha trasformato le carni in tanti modi. Siamo arrivati, quindi delle carni abbruscolite dal passato ai più sofisticati patè di salumi in due giorni di erno. Questo doppio contatto è sempre rimasto profondamente iscritto nella nostra cultura e nella nostra umanità. Quanti tipi di salume esiste? Si parla comunemente di salame ma in realtà è un spettro molto vasto di tipi di salame. Un'indagine eseguita alcuni anni fa ha portato a dire che i salumi italiani che hanno una documentazione vasta, profonda, anche minima sono almeno 666. Un numero magico 666 anche perché qualcuno lo riporta al numero dell'Apocalisse quello del demonio ma identifica un'Italia dai 666 salumi che si spiega quanto siamo complicati e quanto siamo differenziati in Italia. Gli allievi della scuola alberghiera di Lavagna si sono classificati terzi alla fiera del tartufo bianco d'alba. I ragazzi guidati dallo chef Maurizio Berisso stanno seguendo il terzo anno del percorso come operatori della ristorazione. La competizione aveva come tema gli extra food ovvero i super cibi dedicati alle nuove frontiere dell'alimentazione extra domestica. L'extra food proposto dagli allievi di Lavagna è un sandwich destrutturato che esalta i due prodotti protagonisti la pera madernassa e il nergi abbinandoli a prodotti e piatti tipici del territorio di Liguria. L'idea vincente è stata quella di accostare il dolce dei due frutti al sapore e dagli odori della fumicatura di bacalà legata alla rossa tradizione all'amaro del prebougiune alla croccantezza della focaccia tipica. Punto di forza dallo snack la fattibilità e l'accessibilità che consente la riproduzione del piatto in tutte le cucine mantenendo alti i nuovi dettami della cucina attuale con cotture rapide e soprattutto piuttosto semplici. Complimenti a questi ragazzi dell'alberghiero di Lavagna ora vediamo insieme la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani 3 novembre la preparata per noi Emanuela Castello Sigla Venerdì 3 novembre il Centro Giovani Fuori dai Binari di Rapallo apre i suoi spazi alla cittadinanza dalle 15 alle 19 il programma prevede l'esibizione di band musicali e l'esecuzione di pannelli artistici il tutto in piazza Molfino con la possibilità di conoscere il programma delle iniziative del centro per l'anno 2017-2018 idee e iniziative per il futuro delle Valli dell'Entella saranno presentate alle 17 alla Società Economica di Chiavari a cura dell'Osservatorio Fenomeni Urbani che presenterà il terzo quaderno della sua attività con la raccolta degli atti del convegno dedicato a questo tema l'incontro sarà un'occasione per un incontro fra gli amministratori e gli esperti sul tema della riqualificazione dell'ambito fluviale e della sua valorizzazione alle 20.45 nella sala della Croce Verde di Largo Casini a Chiavari sarà presentato il nuovo corso di Esperanto con un incontro dedicato ad una dimostrazione pratica del suo uso la serata è a cura del gruppo Esperanto Tiguglio il gruppo amatoriale genitori alla ribalta dell'istituto San Benedetto di Rapallo porta in scena lo spettacolo i meravigliosi 100 più 1 libero adattamento della carica dei 101 di Walt Disney la serata che gode del patrocinio del comune del contributo della Proloco è ad ingresso libero al termine saranno raccolte offerte a sostegno del Banco di Solidarietà di Rapallo il libro di Roberto Speciale Alessandro Natta una vita esemplare fra cultura e politica sarà presentato alle 21 nella sala Gramsci di via Costa Guta a Chiavari da Mario Margini presidente della fondazione DS Genova e da Enrico Morando vice ministro dell'economia coordina Paolo Perfigli e ora parliamo di sport calcio sconfitte le squadre del Tigul impegnate ieri nella decima di campionato di Serie D la Lavagnese ha perso in casa contro il Seravezza ora prima in classifica e il Sesti Levante è stato sconfitto in casa del Real Forte Querceta la sintesi nel servizio che segue Resta in scia alle avversarie la Lavagnese nonostante l'amara sconfitta contro il Seravezza che ora si goda il primato nel girone E della Serie D la vetta è a soli tre punti è il momento dunque per ripensare la situazione scrive la società nel comunicato di fine gara Croce e compagni dovranno fare un bagno d'umiltà per affrontare la prossima trasferta contro il Ligorna ma veniamo al match di ieri i bianconeri regalano i primi 15 minuti agli ospiti toscani che trovano il vantaggio all'undicesimo con Bortoletti che lascia Nassano impietrito con un gran tiro da fuori area i ragazzi di Venuti accusano il colpo e si scuotono la manovra si fa più veloce e gli avversari iniziano a vacillare al trentesimo una conclusione dei bianconeri viene fermata dal braccio di Fedi e l'arbitro assegna il rigore Croce trasforma dal dischetto e porta la Lavagnese sull'1-1 la partita si fa più emozionante ma le ripartenze della squadra vengono vanificate dall'ottima difesa del Seravezza nella ripresa avversari in dieci per l'espulsione di Siku per doppia ammunizione tuttavia i toscani non sembrano accusare il colpo anzi replicano puntuali all'offensiva bianconera nei minuti finali Nassano subisce un infortunio che lo costringe a giocare di rimessa così al 92esimo Rodriguez dopo un lesto contropiede da 35 metri piazza la palla nel 7 con Nassano fuori dai pali un risultato dunque amaro che arriva dopo il pareggio contro il Ponsacco un punto in due partite che invece avrebbero potuto proiettare la squadra in vetta al Gironee tuttavia la classifica resta ottima in una manciata di punti ci sono Sanremese Viareggio Ponsacco e appunto Seravezza meno bella piuttosto la situazione del Sestri Levante che ieri ha perso in trasferta 1-0 contro il Real Forte Querceta la squadra rimane a 9 punti questa era l'ultima notizia del giornale prossimo appuntamento con informazione come sempre domani 12.45 TG13 io vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente vi auguro una buona serata arrivederci arrivederci ancora prossimo appartieri unico appartstart per la tua attr atr 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 at work v Whatever l'appartamento l'цу